Una proiezione astrale si riferisce a un'esperienza extracorporea, durante la quale l'anima lascia il corpo fisico e si muove in un piano astrale. Spesso le persone sperimentano questo stato di coscienza durante i sogni lucidi e quando maturiamo e alleniamo la nostra sensibilità verso una struttura astrale o metafisica. È tuttavia possibile praticarlo anche volontariamente, questo audio contiene delle istruzioni che ti metteranno nella giusta direzione per iniziare un'esperienza multidimensionale. Non ci sono orari specifici ma è utile praticare questo percorso durante la notte. L'importante è che sei riposato e il giorno dopo non hai grandi impegni lavorativi. Alcuni sostengono che l'alba sia il modo più semplice per raggiungere il necessario stato di rilassamento e consapevolezza. Crea la giusta atmosfera. Un viaggio astrale richiede un profondo stato di rilassamento, per questo andrebbe praticato in una parte della casa in cui ti senti del tutto a tuo agio. Sdraiati sul letto o su un divano e rilassa completamente il tuo corpo. È più semplice compiere un viaggio astrale quando si è soli rispetto a quando c'è un'altra persona nella stanza. Se normalmente dormi con un partner, scegli una stanza differente dalla vostra camera da letto per praticare la proiezione astrale. Prima di fare la sessione, osserva bene che cosa c'è nella tua stanza e in ogni singolo dettaglio. Osserva le tue mani, tocca il tuo volto e senti il tuo corpo, osserva come sei vestito, vestita e che cosa indossi. Bene, ora chiudi gli occhi e libera la mente dai pensieri che ti distraggono. Concentrati sul tuo corpo e sulle tue sensazioni. L'intenzione qui è di raggiungere uno stato completo di rilassamento fisico e mentale. Tendi i muscoli in questo momento e poi rilassati nuovamente. Inizia se vuoi dalle dita dei piedi, dalle gambe, in modo lento e graduale fino ad arrivare al busto. Sì, per ogni secondo trattieni e rigidisci i muscoli, respira e lascia andare. Falo ancora un'altra volta e rigidisci tutti i muscoli, dai piedi alle mani alle braccia, al petto all'addominale. E butta fuori, mentre butti fuori lascia andare anche l'aria, assicurati che ogni muscolo rimanga completamente rilassato quando fai questo esercizio. Ispira profondamente ed espira completamente e lascia andare ogni tipo di tensione, dal petto alle spalle. concentra la tua mente semplicemente sul tuo respiro. Porta la tua attenzione sul tuo respiro. Lascia andare pensieri inutili e allontana dalle preoccupazioni quotidiane. Abbandonati dal dubbio e lascia andare, respira profondamente. lasciati semplicemente sprofondare in uno stato di piacevole rilassamento. Lascia che il tuo corpo e la tua mente si avvicinino al sonno, ma non perdere completamente conoscenza. Questa qui troverai il modo per separare la veglia dal sonno, è necessario entrare in uno stato profondo di rilassamento perché, in questo modo, puoi entrare più velocemente in una proiezione astrale, senza sforzo. Lascia che la tua mente si sposti verso una parte del tuo corpo, ad esempio la mano, oppure il piede, o semplicemente in un singolo dito. Concentrati su quella parte del corpo fino a riuscire a visualizzarla, sì, perfettamente tenendo sempre gli occhi chiusi. Continua a rimanere concentrato fino a lasciar scomparire ogni altro pensiero. Usa la tua mente per far flettere la tua parte del corpo. Immagina che il tuo corpo si fletta in questo momento, si pieghi in due. Ma non muoverti fisicamente, visualizza semplicemente il tuo corpo. Come se dovessi fare degli addominali, poi ritorna dritto. Ora, rilassati, lascia andare. Immagina semplicemente di vedere davanti a te le tue mani, che si incurvano, come se formassero dei pugni, si contraggono, e poi le riapri. Continua così fino a quando ti sembrerà che stiano per muoversi realmente e sentirai questa sensazione dentro di te. Adesso, espandi la tua attenzione al resto del tuo corpo. Muovi le gambe, le braccia, la testa, semplicemente utilizzando la visualizzazione, utilizzando la tua mente. Fissa la tua concentrazione fino a riuscire a muovere l'intero corpo, solo utilizzando la tua mente. Ora, entra in uno stato di vibrazione, cerca di comprendere che sei energia. E ora è il momento di sentire il sangue che circola nel tuo corpo, in modo naturale, senza sforzo. Immagina di avvolgere tutto il tuo corpo in uno strato naturale di tessuti, che ti aiuteranno a tenere lontane le radiazioni, come se fossi un astronauta. O immagina di indossare una tuta superleggera, ma una tuta ad alta intensità di protezione. Usa la tua mente per ritrovarti in uno stato di rilassamento sempre più profondo. Immagina che è nella tua stanza in cui ti stai trovando, che sei sdraiato. Vedi nella tua mente che muovi il corpo. Sì, ti stai alzando in piedi. Guardati intorno. Alzati dal letto o dal divano dove sei tu. Alzati. Inizia a camminare nella stanza. Poi girati e osserva. Osserva il tuo corpo mentre è lì, sdraiato sul letto. Falla adesso. La tua proiezione astrale sta iniziando ad avere successo. Se sentirai di fissare con lo sguardo il tuo corpo, mentre ti trovi dall'altra parte della stanza, stai iniziando a percepire che ora il tuo sé cosciente si sta iniziando a separare lentamente. Rilassati. È semplicemente una visione. È semplicemente uno stato extracorporeo. attraverso una forza invisibile, nota che ci sia un filo d'argento, un filo d'oro, che sia collegato al tuo corpo naturale. Sì, quel corpo che vedi lì, sdraiato, c'è un filo d'argento che si collega a quella parte che si sta muovendo adesso, quella parte leggera, delicata, che si muove nell'aria, si muove in questo spazio. Collega dal tuo corpo al tuo corpo al tuo corpo. Ora è il momento di lasciare questa stanza e iniziare a camminare in un altro ambiente della casa. Esamina un oggetto presente nella nuova stanza in cui ti trovi, qualcosa che non hai mai notato prima in senso fisico. Prendi mentalmente questo oggetto. Nota il colore, la sua forma, le sue dimensioni dell'oggetto prescelto, prestando attenzione al maggior numero di dettagli possibile. Sì, goditi questo momento. Spingiti oltre, vai oltre. Durante questo tempo che stiamo insieme, io sono con te e quando vuoi puoi tornare semplicemente indietro. Da dove sei partita, da dove sei partito. Con piena tranquillità ora immagina che il tuo corpo, oltre ad avere quella tutta spaziale in questo momento, sia avvolto da una luce bianca, una luce di protezione, utile a te stessa, a te stesso, per stare nel benessere totale. Rilassati. Nulla potrà accadere. È sempre tutto sotto il tuo controllo. Lasciati andare, lasciati ispirare. Ricordati di essere sempre collegato e collegata. A questo filo d'argento tra te e il tuo corpo, il filo d'argento, non potrà mai essere spezzato. Quindi ti sentirai sempre libero di andare, di viaggiare, in luoghi che desideri e che magari ti resteranno sempre meno familiari. Ma adesso è il momento di allontanare da te tutti i dubbi e le inutili distrazioni. Resta concentrata e concentrato con te stessa e con quello che puoi realizzare in questo momento attraverso quello che potremo fare. Ricorda che la tua anima è libera da tutti i concetti di distanza, di tempo, di spazio. Lasciala andare. Lasciala fluttuare, leggera. Ora è il momento di entrare in uno spazio tuo personale, lì, in quella stanza che già conosci. Puoi trovare una corda molto spessa. Quelle corde che tengono le navi, le ben presenti. Immagina questa corda che sia collegata a un sistema universale. Sì, una corda, forse collegata a una stella, forse a un pianeta. Ma quello che conta è che vedi questa corda. Ci sei. E vedi le tue mani adesso che prendono questa corda. Tu sei leggera, leggero, sempre più leggero, molto più leggero, come una piuma. La tua leggerezza si diffonde in quest'ambiente. Immagina che piano piano, lentamente, questa corda ti servirà semplicemente come guida verso il sistema universale. Sarà solo un collegamento tra te e una forma più universale. Lentamente sali su. Su, su. E vedi il tuo corpo lì sdraiato, rilassato, con occhi chiusi, sereno. Vai su, sempre più su. Più su. Usa le mani. Le mani sono solo di appoggio a questa corda che è collegata a un pianeta superiore. E vai sempre più su. Verso l'alto, più su. E vedi la tua casa dall'alto. Vedi la tua città, il tuo paese. Vedi dall'alto il luogo dove tu vivi. Vedi alcune persone che si muovono, forse che sono nelle loro case, ma l'importante è che vedi te stesso dall'alto. Molto importante questo lavoro che stai facendo. E ti senti sempre più leggero, più leggera. Sempre più delicato in possesso del tuo potere, avvolto da questa energia bianca e da questa tuta astrale. Nulla è impossibile. Le tue mani nella tua mente sono forti. Sono forti. Nulla è impossibile. Le tue mani nella tua mente sono forti. E ora è di iniziare ancora più su, più su. Questa corda è collegata a una nuvola. Che ti senti sempre più leggero. Puoi vedere te stesso che cammini in una nuvola. E vai sempre più su. Puoi vedere te stesso che sei sul confine del tuo pianeta. Sì, un pianeta astrale, un pianeta universale. Sì, come per una navicella spaziale. Esce dalla propria terra. Lo puoi fare anche tu. Adesso stai uscendo, stai andando fuori dal tuo stesso pianeta. Puoi vedere le stelle. Puoi vedere i pianeti. Puoi vedere le galassie. Puoi vedere intorno a te un intero universo. In quell'universo che fai parte, tu. E tanti altri pianeti non sei solo. Sei tranquillamente in uno stato di beatitudine e di rilassamento profondo. Sì, sempre più leggero. Avvolto, avvolta da questa luce bianca. Attraverso questa tutta speciale puoi affrontare qualsiasi evento possa crearsi in questo momento. Quindi, tu sei protetta, sei protetto, sei benedetto. Può essere che ci sia un pianeta che attira di più la tua attenzione. Magari lentamente puoi arrivarci in questo spazio. Sì, molto bene. Con tutta tranquillità stai affrontando un viaggio astrale. Molto bene. Stai facendo un lavoro straordinario. E a mano a mano che farai questo esercizio, diventerai sempre più padrone di te stesso, sentendoti sempre più leggero, sentendoti sempre meglio, osservando sempre di più quello che c'è intorno al tuo universo. Ascolta i suoni. Senti le sensazioni che noti all'interno del tuo corpo. In questo momento può esserci il nulla, il vuoto. Il vuoto più totale. E vai su, in un altro pianeta, un altro universo, un'altra galassia. Respira. E vivi questo momento speciale, unico. Osserva quella famosa corda, quel famoso filo di argento o di oro che si collega tra te stesso e la tua anima. che è sempre lì con te. E lasciati andare. Devi questo momento. Lascialo andare. E lasciati andare. Il momento di prendere questa corda. E piano piano scendi giù, torna giù, piano piano. Ritorna nello spazio a cui sei entrato, ritorna nel pianeta Terra da dove sei arrivata. C'è quella fune, quella corda che ti porta lentamente giù, sempre più giù. Giù. Inizia a vedere le nuvole. Inizia a vedere dall'alto la tua città. Con calma la tua casa, il tuo paese. Magari c'è qualche persona che conosci laggiù. La vedi dall'alto. E a mano a mano che scendi sempre più giù, collegato a questa corda, ritorna nella tua casa. Ritorna nella tua stanza. E vedi te stesso, o te stesso, che stai dormendo lì, sdraiato. Sorridente. In questo luogo che conosci molto bene. Osserva la tua stanza, osserva l'ambiente. Osserva casa tua, osserva gli oggetti. Bene. Il momento di rientrare dentro di te, rientra nel tuo corpo. Senti le sensazioni che senti, il tuo battito cardiaco. Senti la tua pelle, senti i tuoi piedi, le tue gambe. Il tuo busto, le tue mani. La tua mente, i tuoi pensieri. Ritorna dentro il tuo corpo, ora. Torna dentro la tua mente, ritorna dentro la tua memoria. Ritorna dentro la tua vita. Sì, è un momento particolare, perché stai vivendo questa esperienza. E ogni volta che farai questo percorso, sarà sempre di più una nuova esperienza che potrai fare nella tua vita. Potrai andare su altri spazi. È semplicemente una guida che ti porterà sempre più lontano. E lascia andare adesso questo filo d'argento, questo filo d'oro. Lascialo andare, questa corda. Porta adesso la concentrazione su di te, respira. Immagina di togliere questa tutta di protezione, lasciala andare. Se vuoi, puoi mettere tutti questi strumenti che hai acquisito in questo momento in una cassetta di sicurezza. O non è ormai, dove ti è più comodo, decidi tu. È un momento molto particolare. Hai vissuto un'esperienza unica. E ogni volta che fai questo percorso, prenderai sempre più esperienza. Prenderai sempre più capacità di affrontare qualsiasi tipo di percorso che vivrai. Attraverso la tua immagine, attraverso questa sensazione di uscire fuori completamente da l'immagine reale. Da un'altra proiezione, da un'altra prospettiva. Ora è il momento di tornare. Fai un bel respiro profondo. Proprio così. E al mio tre. Ti sentirai calmo, tranquillo, rilassato. Uno. Senti i tuoi piedi, le tue gambe che sono qui, presenti. Il tuo busto, il tuo bacino. Due. Fai un altro respiro. Lento e delicato. E lascia andare. Porta la tua attenzione, le tue braccia, le tue spalle, la tua testa. Tre. Sei qui, presente. Pronto o pronta per affrontare quello che vuoi. Magari puoi tornare a dormire oppure puoi iniziare a fare quello che vuoi. sapendo che hai un'altra energia, sapendo che hai un'altra vibrazione, sapendo che hai acquisito una tecnica molto importante. Quando vuoi e ti senti sicuro lo puoi ripetere, questo esercizio. Se vuoi, scrivimi o condividi il tuo percorso, oppure semplicemente iscriviti a questo canale. Ti auguro tutto il meglio. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.